ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco cancidas ms di italia srl ultimo aggiornamento 23 novembre 2021 cos'è cancidas confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere cancidas durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è cancidas cancidas è un farmaco a base del principio attivo caspo fungine appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico altri antimicotici per uso sistemico è commercializzato in italia dall'azienda ms di italia srl cancidas può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile confezioni cancidas 50 mg polv per concentrato soluzzi inf 1 fl 10 ml cancidas 70 mg polv per concentrato soluzzi inf 1 fl 10 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare merc sharp ed home dv concessionario ms di italia srl ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe h principio attivo caspo fungine gruppo terapeutico antimicotici forma farmaceutica polvere indicazioni trattamento della candidiasi invasiva in pazienti adulti o pediatrici dei frattari o intolleranti alla terapia con amfotericina b formulazioni lipidiche di amfotericina b e barra o i traconazzolo vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di sette giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace terapia empirica di presunte infezioni fungine come candida aspergillus in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre posologia la terapia con caspo fungine deve essere iniziata da medici esperti nella gestione delle infezioni fungine invasive posologia pazienti adulti il primo giorno di trattamento deve essere somministrata una dose singola dal carico di 70 mg seguita quindi da un'altra di 50 mg al giorno in pazienti di peso corporeo superiore a 80 kg dopo la dose da carico di 70 mg è raccomandata una dose di 70 mg barra di e di caspo fungine vedere paragrafo 52 non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio in base al sesso nella razza vedere paragrafo 52 pazienti pediatrici da 12 mesi a 17 anni in pazienti pediatrici da 12 mesi a 17 anni di età il dosaggio deve essere basato sull'area di superficie corporea del paziente vedere istruzioni per l'uso in pazienti pediatrici formula di mosteller 1 per tutte le indicazioni nel primo giorno di trattamento deve essere somministrata una dose singola dal carico di 70 mg barra m2 non si deve superare una dose effettiva di 70 mg seguita quindi da 50 mg barra m2 al giorno non si deve superare una dose effettiva di 70 mg al giorno se la dose giornaliera di 50 mg barra m2 è ben tollerata ma non fornisce un'adeguata risposta clinica può essere aumentata a 70 mg barra m2 al giorno non si deve superare una dose effettiva giornaliera di 70 mg la sicurezza e l'efficacia di caspo fungine non sono state sufficientemente studiate in studi clinici su neonati e lattanti di età inferiore a 12 mesi si raccomanda a cautela quando si trattano pazienti in questa fascia di età dati limitati suggeriscono che si può prendere in considerazione la terapia con caspo fungine 25 mg barra m2 al giorno in neonati e lattanti di età inferiore ai 3 mesi e 50 mg barra m2 al giorno in giovani bambini da 3 a 11 mesi di età vedere paragrafo 52 durata del trattamento la durata della terapia empirica deve essere basata sulla risposta clinica del paziente si deve proseguire con la terapia fino ad un massimo di 72 ore dopo la risoluzione della neutropenia anc e 500 i pazienti ai quali viene diagnosticata una infezione fungina devono essere trattati per un minimo di 14 giorni e il trattamento deve continuare per almeno 7 giorni dopo la risoluzione sia della neutropenia che dei sintomi clinici la durata del trattamento della candidiasi invasiva deve essere basata sulla risposta clinica e microbiologica del paziente a seguito del miglioramento dei segni e sintomi della candidiasi invasiva e dopo esito negativo delle colture si può prendere in considerazione un passaggio alla terapia antifungina orale in generale la terapia antifungina deve proseguire per almeno 14 giorni dopo l'ultima coltura positiva la durata del trattamento della spergillosi invasiva va valutata caso per caso e deve essere basata sulla severità della patologia di base del paziente sull'entità del miglioramento clinico dell'immunosopressione e sulla risposta clinica in generale il trattamento deve continuare per almeno 7 giorni dopo la risoluzione dei sintomi le informazioni sulla sicurezza per trattamenti di durata superiore a 4 settimane sono limitate tuttavia i dati disponibili suggeriscono che caspo fungine continua ad essere ben tollerato con cicli di terapia più lunghi fino a 162 giorni in pazienti adulti e fino a 87 giorni in pazienti pediatrici popolazioni speciali pazienti anziani nei pazienti anziani 65 anni di età e oltre l'area sotto la curva a uc è aumentata di circa il 30 per cento non si richiede tuttavia un aggiustamento sistematico del dosaggio l'esperienza con il trattamento in pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni è limitata vedere paragrafo 52 compromissione renale non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio in presenza di compromissione renale vedere paragrafo 52 compromissione epatica per pazienti adulti con compromissione epatica di grado lieve punteggio di killed pug da 5 a 6 non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio per i pazienti adulti con compromissione epatica moderata punteggio di killed pug da 7 a 9 in base a dati di farmacocinetica si raccomanda di somministrare 35 mg barra b e di caspo fungine si deve somministrare una dose dal carico di 70 mg al giorno 1 non sono disponibili dati clinici relativi e pazienti adulti con compromissione epatica severa punteggio di killed pug maggiore di 9 ea pazienti pediatrici con qualsiasi grado di compromissione epatica vedere paragrafo 44 co somministrazione con induttori degli enzimi metabolici dati limitati suggeriscono che deve essere preso in considerazione un aumento delle dose giornaliera di caspo fungine fino a 70 mg dopo la dose dal carico di 70 mg quando caspo fungine viene somministrato in pazienti adulti in concomitanza con alcuni induttori degli enzimi metabolici vedere paragrafo 45 quando caspo fungine è somministrato a pazienti pediatrici da 12 mesi a 17 anni di età in concomitanza con gli stessi induttori degli enzimi metabolici vedere paragrafo 45 si deve prendere in considerazione una dose di caspo fungine di 70 mg barra m2 al giorno non si deve superare una dose effettiva di 70 mg al giorno modo di somministrazione dopo ricostituzione diluizione la soluzione deve essere somministrata per infusione endovinosa lenta in circa 1 ora per istruzioni sulla ricostituzione vedere paragrafo 66 sono disponibili entrambi i flaconcini da 50 mg e da 70 mg caspo fungine deve essere somministrato come infusione endovinosa singola giornaliera 1 mostellera rd simbifiet calculation of body surface area n angli lunga med 1987 oct 22 317 17 1098 letter controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzioni di impiego è stata segnalata a nati lassi durante la somministrazione di caspo fungine qualora ciò si verifichi si deve interrompere caspo fungine e si deve somministrare un trattamento appropriato sono state segnalate reazioni avverse possibilmente vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione gli studi in vitro mostrano che caspo fungine non è un inibitore di alcun enzima del sistema del citocromo b 450 chip negli studi clinici caspo fungine non ha indotto il metabolismo di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere cancidas durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere cancidas durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza i dati sull'uso di caspo fungine le donne in gravidanza non sono disponibili e sono limitati caspo fungine non deve essere usato durante la gravidanza a meno che non sia chiaramente vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sono state segnalate reazioni di ipersensibilità anafilassi e reazioni avverse e possibilmente mediate dal rilascio di stamina vedere paragrafo 4 4 in pazienti con aspergillosi invasiva sono stati riportati inoltre edema polmonare vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio è stata segnalata la somministrazione accidentale di caspo fungine fino a 400 mg in un giorno tali evenienze non hanno dato luogo a reazioni avverse clinicamente significative caspo fungine non è dializzabile proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antimicotici per uso sistemico codice atc ilunga 0 2 x 0 4 meccanismo d'azione caspo fungine acetato è un lipo peptide simi sintetico e chinocandina sintetizzato da un prodotto di fermentazione di gloria lozoiensis caspo fungine acetato inibisce proprietà farmacocinettiche distribuzione caspo fungine si lega ampiamente all'albonina la frazione plasmatica non legata di caspo fungine varia dal 3,5 per cento nei volontari sani al 7,6 per cento in pazienti con candidiasi invasiva la distribuzione gioca un dati preclinici di sicurezza studi di tossicità dosi ripetute in ratti e scimmie con dosi fino a 7 8 mg barra chilogrammi endovena hanno mostrato reazioni nel sito di iniezioni in ratti e scimmie segni di elenco degli accipienti saccarosio manditolo e 421 acido acetico glaciale sodio idrossido per l'aggiustamento del ph farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di cancivas a base di caspo fungine sono caspo fungine dottor redis caspo fungine g caspo fungine icma caspo fungine laboratorio selurien caspo fungine milan polvere caspo fungine sandots gmbh caspo fungine san caspo fungine teva italia fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'ai fa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato